Seconda pillola di giornata, SECO. Mi devo scusare con voi perché prima ho detto IoT, simbolo SECO, in realtà la società si chiama SECO e il simbolo quando dobbiamo buccare il titolo è IoT. Questo titolo meritava a mio avviso un video specifico perché è in un trend fortemente rialzista e poi è un altro titolo che detengo nel portafoglio di medio-lungo periodo che come vi ho spiegato nel precedente video, comunque organizzo strutturo con una piccola parte del mio capitale sui titoli che dal mio punto di vista potrebbero essere promettenti. Devo dire che su SECO c'è stata secondo me una discesa eccessiva e poi lo vedremo appunto dal grafico, ma adesso dobbiamo come prima concentrarci sui dati fondamentali per cui vediamo il bilancio del titolo che io vi faccio vedere dalla sintesi che non guarderemo perché ci sono di importante solo i ricavi e le bidda al limite può interessarci il backlog e il fatto che venga confermato l'outlook, ma dobbiamo scendere sotto per vedere i dati in sequenza che interessano a noi, ricavi 94.1 da 41.8, EBITDA 20.1 da 9.3, EBIT 13.9 da 6, netto 8.6 da 4.6. Il debito non è pochissimo perché anche se è migliorato è 122.6 da 125.8, però l'altro comunicato stampa che dobbiamo aprire è quello che è stato pubblicato qualche settimana fa, in realtà poco più di 17 giorni fa, sui ricavi preliminari del terzo trimestre che vedete sono 51 milioni più 103%, vi premetto a me questo piace poco, lo ritengo poco utile, lascia il tempo che trova, io ho bisogno di capire le marginalità, però sicuramente la società è in crescita, per cui stimiamo che questo utile che è 8.6 di 6 mesi possa diventare nei 12 mesi, arrotondiamo in questo caso per eccesso 20. Qual è il primo dubbio che ho? E' che SECO comunque capitalizza 680 milioni, per cui siamo oltre 30 volte gli utili. Di conseguenza in questo contesto di mercato non è così a sconto, semmai, e passiamo appunto al grafico, può essere considerato a sconto solo se prendiamo come riferimento i minimi toccati tra fine settembre e inizio ottobre sotto area 4. Probabilmente questa discesa è stata accelerata anche da quello che ha fatto ovviamente JP Morgan, che è andata short in maniera convinta sul titolo e potrebbe essere benissimo che in questo senso io non ho ancora avuto modo di documentarmi, vi invito magari a vedere la trasmissione che fa il mio amico Emeric Denarda con le posizioni short curata da Stefano Sabetta per vedere se JP Morgan ha diminuito le posizioni short su SECO, come io credo. Comunque adesso il quadro è completamente cambiato, il segnale rialzista lo ha dato il 5 di ottobre con la rottura di questa trendline ribassista e adesso il titolo in sequenza ha già superato la media mobile a 50 che transitava per 4,83, quella a 100 per 5,476 e sembra avviato anche a poter testare la media mobile a 200 5,93. Attenzione però, adesso è corretto mantenere il titolo, io lo sto mantenendo, però dobbiamo essere pronti a uno stop profit perché sui fondamentali non è così a sconto il titolo, è vero che potrebbe salire fino addirittura a 6,34 che è il massimo del 4 di agosto o 6,37 massimo del 1 di agosto, però noi dobbiamo secondo me cominciare a proteggerci soprattutto se siamo entrati in quest'area o come me dopo la rottura a rialzo che il titolo ha fatto, io credo di essere entrato o qui o qui, adesso faccio talmente tanti eseguiti che non mi ricordo se sono entrato il 6 o il 7, comunque era dopo la rottura della trendline, per cui ho ancora il titolo in portafoglio, non ho intenzione al momento di uscire, però sto valutando dove potrei prendere profitto. Vedete questo massimo del 25 di agosto? 5,66, questo massimo di giovedì è stato 5,64 e mezzo, quindi molto probabilmente se il titolo mi dovesse continuare a salire anche lunedì, io mi chiuderei se il titolo dovesse essere in prossimità delle aste finali, quindi delle 17,30, sotto 5,64 e mezzo. Se invece dovesse andarmi a target rialzista della media mobile 200, 5,935, alzerò il mio stop a livello del massimo di ieri, 5,74 e così via. Se poi dovessi essere fortunato, perché la fortuna purtroppo in borsa ha una incidenza non decisiva, ma comunque esiste, che il titolo mi va fino a 6,37, allora il mio stop profit diventa la media mobile a 200 e non mi serve che vada a 6,37 nemmeno a 6,34. Quando dovesse rompere ulteriormente a rialzo, la media mobile a 200 mi farà prima da resistenza finché non viene rotta e poi mi farà da supporto, per cui è così che gestirò la posizione, in modo da applicare uno stop profit che mi permetterà di conservare buona parte del guadagno fino ad esso maturato. Ovviamente dovremo poi stare attenti a quando Secco rilascerà i propri dati trimestrali del terzo trimestre per capire se la crescita di ricavi si è tradotta anche in marginalità. Nella giornata odierna non riesco a caricare, e me ne scuso con voi, lo studio del Fuzzimib, anche se farò un nuovo format con il futures sicuramente e però solo i titoli che si sono realmente mossi, che hanno fornito spunti operativi interessanti, ve lo caricherò domani, probabilmente nel pomeriggio, comunque nella giornata di domani lo troverete. Per adesso auguro a tutti una buona serata e domani mi raccomando non perdetevi questo studio sul Fuzzimib che vedo dalle visualizzazioni e sempre quello che interessa di più. L'ultima nota è per tutti quelli che mi hanno scritto, domani cercherò di rispondere a tutti, continuate a nei commenti chiedere tutti i titoli che volete analizzati perché cercherò comunque di farlo, vi prego però di non chiedermi di autostrade. Io sono Ligure fino al Midollo, non voglio sentire parlare dei Benetton neanche per sbaglio, perché dopo quello che è successo con la caduta, col crollo del ponte Morandi, che è un ponte che io ho percorso più di mille volte nella mia vita, sarei potuto morire anch'io, tranquillamente per me è una ferita ancora aperta, per cui anche se ho visto nei messaggi è un guadagno perché in poche settimane si può fare una percentuale che vale il 18% anno, non mi interessa, per me la situazione è vergognosa perché nessuno ha pagato per quanto accaduto e io è come se avessi, anche se detesto i tatuaggi, un lutto nero al braccio tatuato in ricordo dei miei amici genovesi per chi ho lavorato molto, è stato il periodo più bello della mia vita lavorativa assieme al periodo dell'albergo quando ho lavorato a Genova, il periodo della Millennium Sim che molti ricorderanno, per cui per me è una ferita che anche se mi rendesse veramente tantissimo dal punto di vista economico, a me Autostrade può fare quello che vuole perché quello che è accaduto non merita rispetto e per ovviamente chi ha causato il crollo del ponte, per i mancati controlli sapete tutto, anche voi immagino sapete chi c'è dietro a quanto è successo e io non voglio minimalmente parlarne su questo canale, chiedetemi tutto ma non di Autostrade. A domani.